In Serie D torna a giocare il Castelnuovo che dopo aver visto rinviati gli ultimi impegni a causa dei contagi che avranno colpito il gruppo squadra avrà subito uno scontro tutto in salta abruzzese contro l'Avastese. Aragonesi che in settimana invece si sono fermati all'Aragona contro il Castelfidardo mentre i neroverdi devono cercare di difendere la piazza playoff che adesso condividono con Reganatese, Matese e appunto Castelfidardo. Il vantaggio degli uomini di Guido Di Fabio sta nel minor numero di gare disputate, 26 contro le 28 delle rivali. Castelnuovo che sarà privo di alcune pedine, in difesa mancherà lo squalificato Terrenzio mentre l'Avastese proverà a cancellare la propria opaca di mercoledì contro i marchigiani ma dovrà farlo senza Nicolás Di Filippo, appiedato anche lui per un turno dal giudice sportivo. Ci prepariamo per continuare a fare questo tour de force che sapevamo che ci stesse e quindi siamo propensi a fare questi sacrifici fino alla fine perché il campionato dice questo e quindi dobbiamo essere poi bravi a trovare i punti e non solo con le squadre che ci hanno come il Notaresco o il Campobasso, anche con altre squadre. A provare a dare una mano al Castelnuovo, anche per poter accorciare sulla terza piazza potrebbe essere il Notaresco, che al Savini dopo aver regolato in settimana il Monte Giorgio ospita la Cinzia al Balonga. Il rosso-blu dopo il successo di mercoledì hanno accorciato la distanza che li separava dal Campobasso ma i molisani hanno da recuperare una gara in più e domani ospitano il Tolentino che è ai margini della zona calda di classifica. La lotta per il vertice però per il Notaresco allo stato attuale passa per forza di cose da una flessione del Campobasso che tuttavia sembra lanciatissimo verso il salto di categoria. Chi invece vede rinviato l'impegno della 29esima giornata è la Giulianova che avrebbe dovuto far visita all'Apriglia al Quintoricci, gara rinviata data da destinarsi. Un vero peccato per i giallorossi che grazie ai successi in ordine cronologico con Fiugge e Monte Giorgio stanno risalendo la china in classifica in attesa degli altri due recuperi che la formazione di Leonardo Pitetto dovrà disputare contro le squadre che le sono dietro in classifica, Agnonese e Porto Santelpidio. Quello con i marchigiani però arriva presto, mercoledì infatti, infornata di gare per cercare di riequilibrare una graduatoria con ancora troppi asterischi. Non sarà l'unico recupero della Gironef perché sempre mercoledì scenderanno in campo Montegiorgio Vastese, Agnonese e Tolentino e Vasto Girardi Pineto. E a proposito di Pineto, domani sarà di scena la capo Iprati di Fiugge contro l'undici di Beppe Incocciati. L'impegno è di quelli insidiosi per i biancazzurri che dovranno fare a meno di De La Quercia, scuolificato, ma col vento in poppa di un cammino che ha visto, a parte lo stop di campo basso, la squadra di Pomante rinanellare una serie di risultati che stanno riportando il Pineto a pochi passi dalla zona playoff. Guarda, è stata una bella emozione ritornare in campo dopo veramente sono passati 3-4 mesi ed è stata un'emozione unica soprattutto perché era il mio giorno del compleanno ed è stata una grandissima vittoria da parte dei ragazzi, è stata molto emozionante. Sì, anche perché abbiamo vinto 3-1, era una partita molto importante per noi e anche per ringrazio il mister per l'opportunità, i ragazzi perché è stata una bellissima partita e Meningleri per il gol dedicato. Sì, è una partita molto difficile, è una squadra molto compatta, sanno giocare bene a pallone e noi non dobbiamo sbagliare questa partita per noi, per il nostro cammino, perché stiamo facendo molto bene e andiamo là con la consapevolezza di fare bene perché siamo una grande squadra e possiamo portare a casa questi punti.